Ciao a tutti, io sono Rossano Montori per conto di investire.biz e in questo video vedremo come importare i due indicatori ricevuti nel corso di scalping sugli indici di Giancarlo Crisco I due indicatori in questione sono il Wolf Volume e il Volume Pro Ricordo che il Volume Pro va importato solamente se la vostra piattaforma pro real time è collegata a un broker CFD, in questo caso IG Nel caso invece fosse collegata a un broker per i future tipo Interactive Brokers, non avrete bisogno di importare questo indicatore Vediamo ora come importare i due indicatori Dal pulsante in alto a destra selezionate il pulsante Dalla finestra che si apre, selezionate il pulsante Importa Andate a cercare nel vostro PC la cartella in cui avete salvato i due indicatori Volume Pro o Wolf Volume Selezionate il primo indicatore Importa L'indicatore ProBuilder Volume Pro è stato importato con successo Chiudi Ripetiamo lo stesso passaggio per il secondo indicatore Quindi Importa Wolf Volume Importa Ora per salvare i due indicatori all'interno della nostra piattaforma Selezioniamo la barra di stato File E salvate il piano di lavoro Con salva con nome oppure salvate quello attuale In questo modo i due indicatori rimarranno per sempre nella vostra piattaforma Ora vediamo come aggiungerli al grafico Per aggiungere il volume pro dal pulsante in alto a destra quello che avete utilizzato per importare i due indicatori Lo selezionate E all'interno di i miei indicatori troverete il volume pro e il Wolf Volume Selezionate il volume pro Aggiungere E l'indicatore viene aggiunto sotto il grafico I parametri del volume pro sono linea soglia e minimo soglia Vedrete poi durante il corso Come andrà impostato sui vari strumenti il volume pro e il Wolf Volume Comunque sia la linea soglia rappresenta semplicemente la soglia minima di volumi da considerare In questo caso Per il DAX 500 Il minimo soglia serve Perché nei broker CFD come i G Alcuni volumi non vengono replicati in modo Simile a quello del Future Quindi cerchiamo di includere anche quelli che non raggiungono la soglia Quindi in questo caso 470 sul DAX Il secondo parametro Linea soglia In questo caso sempre lo stesso valore che avete inserito in linea soglia Potete modificarne il colore In questo caso rosso come vedete nel corso Ma questo è a vostra discrezione Ora aggiungiamo il Wolf Volume Per aggiungere il Wolf Volume sul grafico Non dovete andare sul pulsante in alto a destra Ma sul prezzo Selezionate in alto a sinistra la freccettina delle impostazioni La cliccate E selezionate aggiungi indicatore Questo perché aggiungerete il Wolf Volume direttamente sul prezzo E non sotto come il volume pro Selezionate il Wolf Volume Vedete che già viene aggiunto sul prezzo Imparerete nel corso i vari settaggi per i vari strumenti Ma vediamo insieme la configurazione di base La soglia La soglia secondaria Rettangoli Quanto volete grandi rettangoli sul prezzo 50 di default Potete selezionare 0 Per nasconderli Inseriamo 50 In più potete selezionare se vedere o meno le linee sui volumi Ora andiamo a vedere un secondo la descrizione dei due indicatori Nel Wolf Volume vi viene indicato Con i vari colori Le varie linee che visualizzerete La linea blu Che è la soglia che voi inserite come parametro La linea oro Rappresenta il doppio Della soglia Poi vedrete nel corso come utilizzarla E la linea verde Per la soglia secondaria Vi ricordo inoltre Che il volume pro Vi serve Nel broker CFD Per vedere i volumi Anche durante il weekend Questo perché Col volume standard che c'è in piattaforma Non è possibile visualizzarli Facciamo una prova Oggi è domenica 24 giugno La pulsante in alto a destra Aggiungiamo il volume standard che c'è in piattaforma Come potete vedere Non viene visualizzato Invece nel volume pro Si Ciao a tutti E buon corso